Archiviata la faccenda della versione di Profondo Rosso con i tagli, con l'oscuramento eccetera eccetera, salta subito fuori un nuovo problema che è proprio collegato a quella sequenza, cioè la sequenza in cui David Hemings entra nel corridoio in casa di Masha Merrill e vede quei quadri spiritualistici, metafisici con volti che sembrano facce di fantasmi o di spettri. Se si vanno a cercare notizie su questi quadri si trova con una certa difficoltà che vennero dipinti da un pittore di Ceccano che si chiamava Francesco Bartoli, questo già l'ho detto nel video di un paio di settimane fa, un pittore morto nel 2014 che allora, stiamo parlando del 1975, era molto giovane e che realizzò queste pitture metafisiche veramente inquietanti. Non creò questi quadri spontaneamente ma fece un'operazione mimetica, imitativa, cioè esistevano già dei quadri che Bortoli copiò. Questi quadri che già esistevano erano stati realizzati da un pittore torinese che si chiamava Enrico Colombotto Rosso. Enrico Colombotto Rosso è una personalità di spicco, basta farsi un breve giro in rete per capire che siamo di fronte ad un personaggio particolarmente interessante e anche oserei dire inquietante perché la sua opera tradisce degli interessi che vanno dal surrealismo, da un punto di vista strettamente artistico, ad altre cose più inquietanti che lo posero anche in rapporto con Lorenzo Alessandri. Lorenzo Alessandri è un pittore, credo di Giaveno o Giaveno, non so come si pronunci, comunque nella zona del Torinese, che colpì moltissimo la mia fantasia quando lessi di lui a proposito di un reportage che venne fatto da Camilla Cederna, in un libro che vi consiglio di recuperare perché è molto molto prezioso, Casa Nostra, Viaggio nei misteri italiani, spero di ricordare bene il titolo, sì, a Casa Nostra o a Casa Nostra di Camilla Cederna. Se leggete quello che scrive là dentro la Cederna a proposito di Alessandri, trovate degli spunti di riflessione particolarmente densi, ma torniamo a Colombotto Rosso. Secondo quanto mi ha raccontato la nipote del pittore deceduto nel 2013, Barbara Bianca, Colombotto Rosso, che ringrazio per la squisitezza e la gentilezza con la quale ha risposto alle mie domande, le cose andarono in maniera abbastanza complicata nel 1975. suo zio realizzò, evidentemente, e molto probabilmente aggiungo io, chiamato da Dario Argento, realizzò in prima battuta i quadri che avrebbero dovuto essere all'interno del film. Quindi i quadri che si vedono in tutto il corridoio e il quadro in particolare che poi cela praticamente alla fine, celerà la chiave dell'enigma. Suo zio li realizzò, quindi li realizzò appositamente per il film, ma realizzò degli originali. Dopodiché successe qualcosa con la produzione, ci furono dei contrasti, che la nipote non ha saputo meglio precisarmi, e Colombotto Rosso ritirò praticamente questi quadri, cioè inibì l'utilizzo degli originali da parte della produzione. Fu a quel punto, evidentemente, che venne interpellato il pittore di Ceccano, Bartoli, che fece praticamente delle imitazioni, quindi fece delle copie che vennero, queste sì, utilizzate nel film. Prima domanda fondamentale, ma se Colombotto Rosso realizzò questi quadri, questi quadri da qualche parte, gli originali, intendo dire quelli che vennero dipinti in prima battuta, esistono ancora, alla domanda la nipote non sa darmi una risposta, perché dice che la morte di suo zio ha lasciato dei vuoti, cito più o meno letteralmente quello che lei mi ha risposto, incolmabili, quindi non sappiamo se gli originali, gli archetipi di queste opere, da qualche parte esistono ancora. La mia idea, l'idea che mi sono fatto studiando un po' questa faccenda, e che credo chiunque si potrebbe fare, è che probabilmente Bartoli non copiò in maniera diretta dei quadri, si ispirò a quello stile e realizzò tutta quella serie di dipinti, che non sono pochi tra l'altro, che si vedono all'interno del corridoio nella scena in questione di Profondo Rosso. Naturalmente, se qualcuno avesse la possibilità di identificare gli archetipi di Colombotto Rosso, che sono quadri evidentemente che nel suo curriculum sono necessariamente antecedenti al 75, quindi 74-75, il periodo in cui gli vennero commissionati dalla produzione del film, ce lo faccio sapere. E c'è un altro interrogativo. Che riguarda il disegno che viene trovato praticamente da David Hemmings quando gratta la parete all'interno della casa maledetta, diciamo. Chi realizzò quel disegno? Di chi è la paternità di quel disegno? Non credo lo si possa attribuire a Bartoli, perché non mi pare affatto lo stile. È, tra virgolette, un oggetto scenico che probabilmente qualcuno ha realizzato. Ma chi? Se avete la soluzione, fatecelo sapere. Grazie.